pillola d'emergenza ci troviamo sotto il ritilinio di Tinky, zona che ci è stata segnalata da molte molte persone praticamente questa al mio fianco non è la mia nuova auto ma è solo un giocattolo abbandonato in questa semi di scarica a cielo aperto sotto questo bellissimo e possente eucalipto sono presenti svariati contenitori di polistirolo che servono soprattutto per gli agricoltori della zona sono qui abbandonati e incustoditi da molto tempo visto il loro stato di abbandono inoltre possiamo vedere dei calcinacci, un frigorifero, un divano ormai distrutto e molte molte bottiglie di vetro purtroppo le immagini parlano da sole ed è uno spettacolo a cui ormai siamo troppo spesso abituati i nostri occhi sono troppo spesso abituati